La cosa che a noi interessa è portare questa legge elettorale fatta dai cittadini prima possibile a discussione a questo tavolo. Dopodiché ci saranno sicuramente assemblee del gruppo ma che erano già convocate per altre ragioni. L'obiettivo nostro è far sì che una legge votata da centinaia di migliaia di cittadini attraverso il portale possa essere portata nell'ordinamento giuridico di questo Paese anche collaborando con altre forze politiche. Poi capiremo anche quali sono le disponibilità e le richieste che vengono dall'altra parte.